musica 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 avete mai pensato al potere che il caso esercita su di noi musica musica nuova bomba autoverty capitale della liberia almeno 300 le vittime acqua privo scena privo dopo il bar il cantiere hashtag morirai così signori sto parlando di piano due vittime riservate musica 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 la vita è diversa ora nel 2000 xx non preoccupatevi tutto vi sembrerà più chiaro musica 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 ma musica Grazie a tutti. Il caos è la salvezza. Il caos è la vera libertà. Guardatevi attorno. Mi sembra libertà questa. Bisogna distinguersi con la lotta attiva. Si deve agire, agire e ribaltare quel potere che anestetizza i cervelli. Siamo nel 2026 e io odio e sono libero di odiare il caos. Speri agire belli.